Insieme in questo mercoledì 15 marzo 2023 lo facciamo accogliendo il primo ospite di giornata perché affronteremo un tema che abbiamo già toccato in diverse circostanze cercheremo di andare anche dietro le quinte si parla di intelligenza artificiale lo facciamo con Giacinto Fiore co-founder di intelligenza artificiale o IA in questo caso spiegata semplice. Buongiorno e ben arrivato Giacinto Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori Allora ci sono delle ricerche che sono state fatte ci sono delle indagini più che ricerche per quanto non ci siano detective ma siano domande che sono state fatte per indagare proprio sulla conoscenza e sui timori legate alle intelligenze artificiali nel 2023 Allora ti chiediamo da esperto del settore e da semplificatore di un concetto che potrebbe risultare anche difficile da digerire quali sono innanzitutto i dati, i dettagli che sono emersi da questa indagine e quali sono poi le paure anche che sono emerse insieme a questi dettagli Certo, è un'indagine che è stata condotta come spesso accade dall'altro lato dell'oceano negli Stati Uniti d'America ma la situazione in Italia non è tanto differente pensate che circa 8 americani su 10 si sono detti spaventati dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno della società civile e addirittura credono che ci siano dei pericoli proprio derivanti dal fatto che l'utilizzo dell'AI possa, che so, rubare la propria identità insomma, problemi legati anche al mondo della privacy In Italia la situazione non è per niente differente anche da noi la generazione boomer è quella un po' più spaventata è più distante dall'utilizzo e dalla conoscenza dell'intelligenza artificiale all'interno della propria vita quotidiana ti do un altro dato, in Italia soltanto il 6% delle imprese italiane utilizzano soluzioni di intelligenza artificiale nel proprio business, nella propria quotidianità quindi direi che c'è davvero tanto lavoro ancora da fare Ecco, eppure non è un argomento nuovissimo in realtà quello dell'intelligenza artificiale però sembra che negli ultimi mesi gli italiani si siano svegliati e abbiano iniziato a postare, fare titoli anche abbastanza apocalittici quindi c'hai un attimo aperto questo vaso di Pandora potremmo dire ma al di là del titolo, al di là dell'input che ci arriva nessuno di noi ha capito effettivamente a cosa servirà questa intelligenza artificiale all'interno delle aziende visto che le hai citate quindi cerchiamo di capire anche effettivamente quale sarà il loro utilizzo nelle aziende ma più in generale in termini professionali? Immagina di essere in questo momento in ufficio insieme ai tuoi colleghi e stamattina di nuovo c'è una cosa è arrivato un nuovo collega questa volta non è in carne ed ossa è un'intelligenza artificiale ed è forse quel collega a cui tu puoi chiedere qualsiasi cosa lui ti risponde sempre praticamente le sa tutte è un po' antipatichello però in realtà ti dà davvero una grande mano ecco l'intelligenza artificiale all'interno degli uffici delle aziende italiane può davvero fare un grande lavoro pensa a tutte le persone che dalla mattina alle 8 alla sera alle 19 sono lì al telefono a rispondere alle stesse domande agli stessi quesiti dei clienti che chiamano in azienda bene oggi un'intelligenza artificiale può sostituire questi lavori ma tanti altri ancora ripetitivi, noiosi che un po' alienanti per l'essere umano lasciamoli fare ad un'intelligenza artificiale che diventa anche più efficace in quel caso e occupiamoci a fare delle cose più interessanti e più creative magari ecco io a questo punto poi mi vesto anche da cospirazionista cerco di calarmi nei panni di chi ascolta magari questo argomento nel momento in cui dovesse effettivamente diciamo scegliersi questa strada dal punto di vista delle imprese non c'è il rischio per i posti di lavoro che sostanzialmente la macchina sostituisce l'uomo questa è una domanda che poi ci si pone spesso è un tema questo che tu sollevi molto interessante sicuramente c'è una fase di trasformazione molto forte all'interno delle aziende italiane di posti di lavoro che si stanno trasformando alcuni posti di lavoro magari alcune funzioni di un lavoro magari non saranno più svolte dagli esseri umani ma le persone resteranno ancora in azienda a svolgere magari compiti più interessanti più intelligenti dove è utile inserire la propria creatività ma ti pongo un esempio molto molto semplice immagina di essere davanti ad un medico che sta guardando la tua radiografia e che in quel momento lui si sente bussare al lato sulla spalla da un'intelligenza artificiale che gli suggerisce esattamente il punto da guardare in quella radiografia o in quella ecografia per approfondire la sua analisi ecco io da cittadino mi sentirei più sicuro, più sollevato dal fatto che so che un medico assolutamente formato, super professionale possa essere aiutato nella visione di un problema che magari mi può mi può capitare da una macchina che è tanto intelligente a fare quel compito specifico da aiutarlo nel suo lavoro ecco allora cerchiamo di essere ancora più pratici e di guardare ancora di più verso il futuro quali potrebbero essere i consigli per applicare l'intelligenza artificiale in ottica aziendale in modo del tutto innovativo futuristico e soprattutto in modo funzionale direi per quelli che poi al di là di avere il dispositivo e di chiedergli cose un po' come inizialmente succedeva con i dispositivi quelli domestici dove chiedevamo di tutto anche in maniera banale ecco magari diamo tre punti sull'utilizzo funzionale di questa intelligenza artificiale all'interno delle aziende allora il primo consiglio che mi sento di dare è per un imprenditore un professionista di svegliarsi la mattina insieme a tanti pensieri che ha iniziare a pensare ai dati che sta producendo la propria attività la propria azienda quali sono, dove sono e come posso raccoglierli in maniera efficace perché quella è la materia prima per far funzionare questi algoritmi di intelligenza artificiale secondo consiglio è non partire in grande non pensare di rivoluzionare totalmente la propria azienda mandando tutti a casa e metterci un'intelligenza artificiale tipo apocalisse ma in realtà di partire da un piccolo problema e su quello iniziare a ragionarci su il terzo consiglio di coinvolgere i collaboratori questa è un'innovazione che richiede tanto coinvolgimento da parte dei dipendenti insieme a te che sei un libero professionista un imprenditore coinvolgendoli verrà fuori un'innovazione condivisa approvata dal team e che magari oltre ad essere un po' antipatica perché le sa tutte magari ogni tanto un caffè glielo vuoi anche anche per creare quella collaborazione tra innovazione creatività e svolgimento pratico grazie Giacinto Fiore co-founder di A Spiegata Semplice ci sentiamo presto anche perché ci sarà un evento a breve